La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di sei soggetti tra commercialisti ed amministratori di una società di Milano, ritenuti a vario titolo responsabili di un'evasione fiscale quantificata in oltre 2 milioni e mezzo di euro. Le prime indagini sono state avviate nel 2016 da parte delle fiamme gialle di Vallo della Lucania insospettite dal fatto che un imprenditore aveva spostato nel piccolo comune cilentano di Laurino la sede di una delle sue imprese operante nel settore dell'impiantistica termica. Un trasferimento anomalo e soprattutto avvenuto solo sulla carta come riscontrato infatti dai militari nel corso di un sopralluogo. Presso il nuovo indirizzo non vi era alcuna traccia dell'azienda, non un'insegna o una cassetta postale né tantomeno un locale o un magazzino che ne provasse l'operatività. L'inchiesta ha da quel momento preso tutt'altra piega per fare luce sulla vicenda. I finanzieri hanno aperto una verifica per approfondire la posizione fiscale della società che di fatto aveva mantenuto cuore e anima nel centro meneghino a due passi dal Duomo. Attesa la mancanza della documentazione contabile obbligatoria, gli investigatori hanno approfondito le ricerche attraverso specifiche interrogazioni alle banche dati in uso al corpo accertando in questo modo che dal 2013 al 2015 l'impresa aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse aziende, tutte riconducibili al medesimo titolare. Il passo successivo è stato quello di individuare i soggetti coinvolti nella frode e delinearne i rispettivi ruoli. Un vero e proprio sodalizio di matrice calabrese quasi tutti i responsabili erano lombardi, solo di adozione con al vertice l'amministratore di fatto della società principale, artefice della truffa e a seguire due rappresentanti legali mere teste di legno. Notevole apporto alla realizzazione del disegno criminoso è stato infine fornito da tre commercialisti che mediante la compilazione dei modelli 760 e degli F24 con dati non rispondenti al vero hanno contabilizzato crediti IVA inesistenti per cifre enormi ai quali la società ricorreva sistematicamente per annullare le imposte che avrebbe dovuto versare. Per garantire il pagamento alle somme dovute all'erario il GIP del Tribunale alla sede su richiesta di questa procura ha pertanto disposto il sequestro preventivo dei beni nelle disponibilità degli indagati. Sui conti correnti sono state così rinvenute e cautelate disponibilità finanziarie per oltre 400.000 euro. Hanno inoltre formato oggetto di sequestro 14 fabbricati e 22 terreni nonché una serie di beni di lusso tra i quali orologi e quadri di pregio, una lussuosa villa sita nel capoluogo Lombardo che da sola vale mezzo milione di euro, una Porsche 718 Cayman e una fiammante Ferrari 612 Scaglietti. Gli indagati dovranno ora rispondere dell'accusa di evasione fiscale mediante l'indebita compensazione di crediti d'imposta fittizi, reato per il quale rischiano la reclusione fino a sei anni.